Roberto De Zerbi gode di grande stima da parte degli addetti ai lavori, scopriamo il perché. Inizia la carriera nel novembre 2013 con il Darfo Boario, con la quale retrocede dalla Serie D all'eccellenza. Vabbè, ha iniziato male, capita. Quindi Valfoggia, Lega Pro, dove arriva secondo, si qualifica per i playoff, ma poi perde la finale con il Pisa e quindi non viene promosso. Vince però la Coppa Italia Lega Pro, un po' la mitropa, quindi già per il Milan, contro il Cittadella in finale. Poi, divergenza di vedute, quindi anche non uno tranquillo, viene allontanato e va via. Viene chiamato da Zamparini al Palermo, eh lì sì, lì proprio ha fatto il salto, perché debutta a settembre perdendo col Napoli, vince una sola partita in trasferta con l'Atalanta e a novembre, dopo due mesi e mezzo, viene esonerato. Nel 2017 viene chiamato a salvare il Benevento, che era già in condizioni non ottimali, e non riesce, retrocede col Benevento, non riesce a salvarlo. Con questi grandi risultati riesce ad approdare sulla panchina del Sassuolo, dove otterrà i suoi risultati migliori. Un decimo posto e due ottavi posti, uno a pari merito con la Roma, dove per differenza reti comunque non accede alla Conference League, ma ci andrà la Roma. Esperienza ucraina per Roberto De Zerbi allo Shakhtar, dove vince la Supercoppa con la Dinamo Kiev, ma poi causa guerra, si interrompe tutto e finisce il matrimonio. Da lì la Premier al Brighton, dove il primo anno ottiene il miglior risultato qualificandosi in Europa League, successivamente una valanga di gol subiti, decimo, dodicesimo posto comunque sul fondo della classifica, nonostante il budget sostanzioso che hanno le squadre di Premier. E' questo l'allenatore giusto per il Milan? Quello che darà la svolta? A voi, come sempre, l'ardua, anzi, la semplicissima sentenza.